Ciao ragazzi e ciao ragazze, bentornati, io sono Antonio e come promesso nel video precedente oggi vi racconterò la bellissima esperienza dell'evento che noi di Pottercast abbiamo organizzato con Serena Riglietti, storica illustratrice dei primi volumi della saga di Harry Potter al centro commerciale con Cadoro con la collaborazione della fumetteria Fanside e questo evento ragazzi è stato davvero bellissimo, è stato divertentissimo siete venuti in tantissimi, anche molti che ci seguono nelle nostre live di Pottercast sul nostro canale YouTube che vi consiglio assolutamente di seguire, visto che lì facciamo delle live settimanali dove appunto trattiamo di collezionismo, tema Harry Potter, approfondimenti abbiamo anche diversi ospiti che ci sono già venuti a trovare, che torneranno e altri nuovi che verranno a seguire e appunto vi ricordo anche di seguirci su Instagram sia a me Antonio.seria che su appunto Pottercast trovate il logo molto facilmente scrivendo Pottercast e ragazzi io mi porto tantissime cose dietro da questi tre giorni passati a Palermo in primis il ricordo bellissimo del tempo trascorso con Alessio, Rudy e Graziano che sono gli altri membri di Pottercast noi viviamo sparsi nei triangoli della Sicilia e ogni tanto ci riuniamo per queste occasioni e quindi siamo stati davvero felici di trascorrere del tempo insieme e soprattutto di trascorrere del tempo con Serena Riglietti che è ormai una nostra grande amica ed è stata davvero davvero grandissima si è prestata e concessa in modo totale a tutti quelli che si sono presentati al firmacopie ed è stato davvero molto molto bello vedere l'affetto che le è stato dato da tutti i fan avete portato molti libri, avete portato delle cose molto belle da far firmare edizione anche molto rare e soprattutto chi ci segue sa durante quell'evento abbiamo avuto dei prodotti esclusivi appunto fatti per quell'evento venduti dalla fumetteria e che noi vi abbiamo dato modo di acquistare anche a distanza nonostante non fosse previsto ma abbiamo fatto un po' da tramite tra la fumetteria e voi e vi abbiamo fornito i mezzi per poter acquistare le stampe limitate che sono state fatte per quell'evento che erano solo 250 numerate di un'illustrazione inedita e poi ad alcuni di voi è stata data anche la possibilità di preacquistare la fine art del senso occhiali ma la prima cosa che voglio farvi vedere è questo volume qui che è stato disponibile lì durante l'evento e si tratta della Harry Potter la magia dei vent'anni ricordi e disegni di Serena Riglietti questa è una nuova edizione del catalogo che va a raccogliere al suo interno tutte le illustrazioni delle copertine di Harry Potter ma anche le illustrazioni interne come potete vedere abbiamo anche un commento e poi abbiamo anche delle illustrazioni un po' meno diciamo comuni come questa che è quella che l'anno scorso era in vendita a Etna Comics che io ho recuperato o ad esempio questa qui che trovo anche bellissima che mi sono fatto firmare qui all'interno da Serena che è qui firmata a mano tutti i volumi sono stati firmati a mano da Serena chi non aveva richieste particolari ha avuto la firma nella prima pagina mentre altri si sono fatti firmare chi era presente si è fatto firmare una tavola in particolare magari alla quale era particolarmente legato ad esempio appunto io ho fatto mettere la firma su quelle illustrazioni che vi ho appena mostrato questa qui con lo sfondo in rosa mentre ad esempio Rudy, Graziano e Alessio hanno scelto delle altre pagine da farsi firmare questo volume aveva il costo di copertina di 12 euro secondo me era davvero un'occasione prenderlo anche perché è in esaurimento e questo qui lo troverete anche al nostro prossimo evento perché abbiamo una piccola disponibilità ma ora passiamo alle cose un po' più succose perché Alessio è stato così bravo nei mesi passati da spulciare un po' su internet ed è riuscito a trovare delle pagine di giornale dell'avvenire del 3 novembre 1999 questa pagina di giornale raccontava l'uscita della Camera dei Segreti del libro della Camera dei Segreti dell'ultima novità letteraria e su questo articolo c'erano appunto dei disegni degli elementi ripresi dalla copertina del libro e messi all'interno dell'articolo Alessio è riuscito a recuperare quattro copie di questo giornale e le abbiamo mostrate a Serena quando ci siamo visti poi a pranzo la domenica successiva all'evento e Serena di sua spontanea volontà ha preso il suo stuccio, le sue belle matite colorate e ha colorato questa pagina di giornale e io voglio farvela vedere spero si riesca a vedere qui abbiamo Harry che vola sul libro, sul diario e questo era tutto quanto in bianco e nero come il resto del giornale Serena con le sue matite ha ricolorato il libro e Harry col suo cappello da basilisco con appunto le sue matite e poi ha firmato con un pennarello bianco qui la copertina del libro e davvero siamo rimasti super super colpiti dalla sua generosità e da questo gesto che lei ha fatto spontaneamente ci ha semplicemente detto arricchiamo questa pagina così è molto triste con questi colori così scuri diamogli un po' di colore e quindi ha ricolorato tutti e quattro i nostri giornali e noi li abbiamo ovviamente messi qui in cornice a me piace tantissimo per questo devo ringraziare Alessio che comunque i giornali sono un regalo di Alessio per noi di Pottercast ed è veramente un piacere avere questo pezzo in collezione e non finisce qui perché prima vi parlavo appunto di una stampa una stampa che è stata fatta in 250 pezzi e si tratta di un'illustrazione con sfondo inedito che era apparsa già nel catalogo Skira e anche in questo catalogo qui ma era apparsa in modo un po' rimaneggiato diciamo così eccola qui questa è l'illustrazione di Harry con questo cappello verde e una luna qui in quest'asola e vediamo che ha uno sfondo così nero e poi abbiamo delle scritte tutte a vortice a chiocciola sull'immagine e quindi questa era l'unica versione dell'illustrazione che era stata mai pubblicata mentre Serena ci ha fornito l'illustrazione completa così come era stata pensata e ve la faccio vedere qui eccola io la trovo bellissima con tutte queste luci attorno alla testa di Harry la trovo veramente veramente bellissima quindi è completa di sfondo inedito non è presente il testo sull'immagine e poi qui mi è stata fatta una dedica da Serena con questa piccola testa di Harry che trovo bellissima questa testa di Harry col cappello da topo e mi ha scritto Caro Antonio con grande affetto Serena Riglietti questa ovviamente la custodirò in modo maniacale e sono davvero super super contento di avere anche questo pezzo che si va ad unire appunto come vi dicevo a questa che invece è la stampa che l'anno scorso ho recuperato a Etna Comics anche questa è firmata da Serena Riglietti però questa devo dire che secondo me forse ha un tocco in più ci sono più legato perché appunto appartiene all'evento al primo evento che abbiamo fatto insieme a lei e poi come vi dicevo abbiamo anche una fine art questa fine art è stata fornita in anteprima da alcuni di voi che hanno anche preso il libro col disegno per chi non sapesse chi ci segue su Pottercast ha avuto modo di potersi aggiudicare uno dei 27 libri disegnati da Serena al suo interno cosa abbiamo fatto? abbiamo fatto spedire a 27 di voi i libri direttamente a noi c'è chi ha mandato delle prime edizioni di Camera dei Segreti chi ha mandato prime edizioni della Pietra Filosofale Senza Occhiali, Ordine della Fenice, Calice di Fuoco ognuno ha scelto quello che preferiva della propria collezione lo ha spedito a noi e noi gli abbiamo dati a Serena che ha realizzato delle sue piccole illustrazioni all'interno di questi libri rendendoli davvero super speciali questa è un'operazione che probabilmente non si ripeterà e chi ci ha dato fiducia a scatola chiusa chi ci segue e ci ha dato questa fiducia secondo noi ha fatto davvero un grandissimo grandissimo affare perché ha adesso un pezzo da collezione dal valore secondo noi inestimabile ma di questo poi ne parleremo assieme agli altri ragazzi magari in una live dedicata ma siete stati davvero fortunati e ve lo meritate perché ci avete supportato in un'iniziativa totalmente a scatola chiusa e per chi volesse saperne di più sempre vi rimando al nostro canale Pottercast e a seguire le nostre live settimanali e anche la pagina Instagram di Pottercast questa è la Fine Art questa è la carpetta che racchiude la Fine Art e si tratta di una stampa di altissimo livello della primissima versione della copertina della pietra filosofale versione ancora precedente a quella del senza occhiali perché nella copertina senza occhiali Harry ha la cicatrice e i capelli marroni in questa invece versione che è ancora precedente Harry non ha gli occhiali non ha la cicatrice e ha i capelli rossi quindi questa è una è la primissima versione in assoluto quella che per la prima volta è stata mandata a Salani che poi è stata modificata nel senso occhiali e la Fine Art era venduta così per come si trova firmata a mano da Serena e numerata solo che Serena ha voluto farci un regalo extra a noi di Pottercast quindi a me, ad Alessio, a Rudy, a Graziano e ci ha disegnato degli occhiali degli occhiali sul senza occhiali però degli occhiali particolari ci ha dato libera scelta io ho dato libera scelta a lei nel mio caso ma anche Rudy ha avuto una bella idea si ha fatto fare degli occhiali molto particolari lo stesso Graziano e anche Alessio poi vi mostreranno loro i loro occhiali in questa Fine Art io vi faccio vedere adesso i miei che sono questi qui eccola qui la tiriamo fuori dalla copertina dalla carpetta e eccola qui questa è la Fine Art del senza occhiali come potete vedere i capelli qui sono rossi la cicatrice è stata aggiunta da Serena adesso in un secondo momento e nel mio caso ha fatto degli occhiali a forma di cuore e devo dire che li trovo bellissimi Serena li ha definiti degli occhiali da Lolita a me sono piaciuti un sacco perché anziché disegnare dei semplici occhiali da Harry Potter rotondi è secondo me molto più bello molto più pop realizzare degli occhiali stravaganti e su questa scia anche gli altri miei colleghi si sono gettati in occhiali molto molto stravaganti che vi consiglio di recuperare su Pottercast e sui loro social quindi seguiteli assolutamente nel mio caso Serena ha firmato qui in basso la stampa le nostre sono numerate 000 su 250 quelle di Pottercast e ha aggiunto a penna caro Antonio con tanto affetto qui in alto io sono davvero molto molto contento questo è stato un regalo di Serena per noi di Pottercast un regalo che ci ha davvero scaldato il cuore e siamo super super contenti di tutto quello che è nato grazie a questo primo incontro avvenuto a Etna Comics l'anno scorso con Serena che si è portato avanti sfociando nuovi progetti in stampe, fine art e che ve lo dico visto che manca poco più di un mese sfocerà in Etna Comics 2024 con uno stand dedicato a Pottercast dove avremo Serena Riglietti lì con noi per quattro giorni quindi saremo presenti tutti io, Rudy, Graziano e Alessio e sarà anche presente Serena che sarà lì appunto disponibile a farvi le detiche sui vostri libri e dove potete trovare la fine art delle opere originali di Serena potete trovare una nuova stampa esclusiva dedicata all'evento di Etna Comics con una nuova illustrazione e poi tantissimi prodotti che non si erano mai visti sempre legati ad Harry Potter e probabilmente anche una spilletta visto che c'è stato richiesto da tanti di voi che le collezionano faremo una spilletta dedicata ufficiale ad Harry Potter di Serena Riglietti e poi avremo anche tantissime altre cose che vi mostrerò in un altro video e il prossimo video quello dedicato a quello che troverete allo stand di Pottercast ad Etna Comics non uscirà sul mio canale ma uscirà sul canale di Pottercast quindi ragazzi mi raccomando seguiteci questo è il logo ve l'ho detto mille volte purtroppo si fa fatica a spostare le persone da un canale a un altro a far seguire anche gli altri social lì uscirà a breve un video dove vi mostreremo tutto quello che sarà possibile trovare ad Etna Comics e qualora foste interessati a qualcosa di particolare troveremo il modo di aiutarvi per farvi avere quello che desiderate come abbiamo sempre fatto d'altronde bene ragazzi detto questo io spero che questa fanart vi sia piaciuta non vedo l'ora di sapere cosa ne pensate voi nei commenti voglio farvela vedere più da vicino ecco qui gli occhiali a forma di cuore e la saetta io la trovo davvero incredibile la trovo davvero bellissima non vedo l'ora di incorniciarla e appenderla e non vedo l'ora di aggiungere anche tantissime altre cose che stanno per arrivare detto questo ragazzi io la chiudo qui perché potrei parlare di questo evento per ore e ore e ore ma vi rimando sempre ai social di Pottercast dove trovate un reel bellissimo dell'evento dove trovate tantissime foto e tutto reportage fatto da Alessio e dagli altri membri di Pottercast che non siamo solo noi quattro ma dietro di noi ci sono anche tante altre persone che si prodigano in questo progetto e quindi è giusto sostenere tutto il progetto tutti insieme detto ciò ragazzi io adesso taccio chiudo la mia boccaccia e noi ci vediamo prestissimo con tante altre novità e non vedo non vedo l'ora di vedervi di abbracciarvi ad Etna Comics perché sono sicuro che molti di voi verranno lì a trovarci detto questo non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video ciao 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 ciao